Primo pareggio della stagione per il notaresco, primo pareggio al Valle Anzucca per il Francavilla. Tra giallorossi e rosso-blu finisce 1-1, risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Racchini conferma il 4-2-3-1 con Banegas, Palumbo e De Costanzo a supportare Cruz. L'allenatore giallorosso ritrova Nazari dopo l'infortunio e Banegas dopo le due giornate di squalifica. Dall'altra parte Cudini sceglie Blando come direttore d'orchestra con il solito tridente composto da Liguori, Minella e Moretti. Il Francavilla subito è una buona occasione, De Costanzo affonda sulla sinistra e mette in mezzo per Palumbo che liscia la sfera. Sulla palla arriva Banegas che però alza troppo la mira. Il notaresco inizia ad alzare la pressione e trova la via del gol con il concorso di colpa di Spataro. Al nono Candellori fa partire un cross che si dirige però verso la porta, l'estremo difensore di casa non trattiene e la palla finisce oltre la linea per il vantaggio rosso-blu. La spensieratezza spinge la formazione di Cudini ad andare ancora vicino al gol. Ci prova Liguori al ventesimo direttamente da calcio di punizione, Spataro se la cava in qualche modo con il portiere poi pronto sulla ribattuta di Minella. Al ventinovesimo Dalmazzi non trova di poco la porta raccogliendo un calcio di punizione di Liguori ma indirizzando di poco alto. Il Francavilla fa in gran fatica a far circolare palla, riuscendo però ad alzare la testa verso la fine della prima frazione. La pressione produce due occasioni da calcio d'angolo. La prima al quarantaduesimo, quando Cruz non trova di poco lo specchio. La seconda tre minuti più tardi, quando ancora l'attaccante brasiliano viene questa volta però fermato da Monti. La ripresa inizia con il Francavilla che porta avanti la pressione di fine primo tempo a caccia del pareggio. Rakhini fa entrare anche Sanchez al posto di un acciaccato De Costanzo per trovare nuove soluzioni offensive. Al diciottesimo è Palumbo a provarci dagli sviluppi di un calcio d'angolo ma Monti se la cava in due tempi. La pressione dei padroni di casa produce i suoi effetti al ventiquattresimo. Cruz finisce a terra dagli sviluppi di un calcio di punizione dopo un contatto con Salvatori. Il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto. Banegas, glaciale, trasforma per il pareggio del Francavilla. La reazione del notaresco è in un tentato bis di Candellori che al trentacinquesimo fa partire un cross che chiama però in causa Spataro. Bravo ad alzare in angolo. La gara non offrirà poi altre emozioni. Mercoledì il Francavilla se la vedrà in casa della capolista matelica mentre per il notaresco ci sarà un altro derby questa volta contro il Pineto. Viste l'alfine possiamo dire un pareggio sostanzialmente giusto. Il Francavilla ha un po' accusato il colpo all'inizio poi però è uscito bene e ha trovato la via del meritato pareggio. Sì hai detto bene tu nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare gioco comunque con una squadra ben messa in campo e poi è successo che su un cross, su una palla un po' presa anche male dal loro giocatore abbiamo preso questo gol e poi la partita è stata in salita però comunque la mia squadra ha provato subito a rimetterla per pareggiarla. non siamo riusciti poi sono tempo come hai detto tu c'è stata una bella reazione abbiamo pareggiato e penso che alla fine abbiamo anche provato a vincerla però ripeto è stata una partita equilibrata lo sapevo contro una squadra forte. Una bella partita come ce ne sono tante comunque in questa categoria ripeto due squadre molto organizzate e alla fine io la partita sapevo che si poteva sbloccare su qualche situazione io pensavo ecco di tenerla in equilibrio sullo 0-0 nel primo tempo poi però ripeto ci sono tante variabili e abbiamo preso il gol però quello che conta è che l'abbiamo ripresa e abbiamo anche provato a vincerlo. Un primo tempo sì abbastanza buono da parte nostra dove il gol sicuramente ci ha dato quella spinta per poter affrontare la partita in un certo modo e quindi abbiamo fatto discretamente bene nel prossimo tempo giustamente Francavilla, squadra di grosse qualità, grosse individualità ci avesse un po' in difficoltà ma devo dire che alla fine l'episodio del rigore ha determinato il pareggio che credo alla fine sia giusto. Ci dà continuità di risultati dopo la vittoria domenica scorsa col campo basso quindi sicuramente sì affrontiamo un banco di prove importante dopo Matelica credo che sia una delle squadre meglio attrezzate per questo campionato e quindi noi dovevamo essere all'altezza, credo che lo siamo stati abbiamo subito forse qualcosina di troppo rispetto alle nostre qualità però va bene così, è un punto che sicuramente ci fa morale, ci fa classifica e come ho detto i ragazzi a volte le partite si portano a casa anche in questa maniera sicuramente avevamo fatto l'idea di portare a casa i tre punti però quando hai giocatori di qualità davanti che ti possono mettere in difficoltà può succedere anche questo.